Ciao, volevo parlarvi di quella che secondo me è una delle principali caratteristiche che fanno la differenza tra arrivare al proprio obiettivo o non arrivarci nell'allenamento. Potrebbe anche sembrare all'inizio banale o eccessivamente semplice, ma ho notato che spesso è veramente la cosa che fa la differenza. Uno può intraprendere un allenamento per tanti motivi, perché conosce già ed è già entusiasta dell'idea di praticare, perché l'ha visto fare, perché ha qualche obiettivo personale, tornare in forma, dimagrire, irrobustirsi, sentirsi più forte, più sicuro. Tanti si affacciano all'allenamento per l'autostima, molte persone si affacciano all'allenamento per aumentare la propria capacità di esprimersi o per aumentare la propria gita. Sicuramente in questi campi può aiutare molto, ma ciò che fa la differenza veramente è se ti diverti. È veramente essenziale che ti diverti mentre ti alleni. Mentre impari, ovviamente ci saranno da affrontare limiti e difficoltà, ma il fatto che ti diverti ti aiuterà molto ad affrontarle e a superarle. È importante che durante la pratica non ci sia un senso di costrizione. Se non trovi divertente o appagante l'allenamento, sarà difficile trovare poi la forza per affrontare l'ostacolo. Certamente che allenandoti potresti per esempio dimagrire, ma se non ti diverti, lascerai presto la pratica e il problema poi si ripresenta. Se il motivo della pratica è di per sé la pratica stessa, cioè ti diverti mentre ti alleni, poi gli obiettivi arriveranno e saranno più duraturi. Premesso ovviamente che capita spesso che una persona si affaccia all'allenamento senza avere una super passione, anzi molto spesso non sa neanche di cosa si tratta. Quindi è importante che la passione per la pratica arrivi entro un certo tempo. Un po' come quando fai qualcosa per scelta o che ti diverti. Se vai al cinema e paghi il biglietto vai a vedere un film che ti diverte o comunque che ti appaga, che ti dà qualcosa. Non vai a vedere un film che non ti piace proprio. Questo secondo me è molto importante per avere un buon allenamento. Ho notato spesso che i praticanti più bravi sono veramente divertiti, che si tratti di insegnare o di imparare. Questa cosa piuttosto semplice secondo me è veramente importante per avere dei risultati duraturi, concreti e che durino nel tempo. Al di là di quello che praticate. Divertitevi!